Allora buongiorno, buongiorno a tutti, iscrivetevi, condividete questo video con tutti i tifosi del Napoli che conoscete, seguitemi su Instagram e per questo video qui 300 like, 300 like fomentati napolieri. Me li concedete? Amante degli imprevisti o vittima degli eventi? Tu come mi definiresti? A proposito di Napoli e di youtuber napolieri, che devo dire che il Napoliere delle Puglie ha 2-3 youtuber esiziali che non sono di RoboAnse, ma sono esiziali e sarò ospite domani del buon Caffè Napoli, farò un video che uscirà poi in settimana per parlare proprio del Napoliere delle Puglie assieme a lui e vi consiglio anche un altro youtuber, il buon Federico a calcio di cane podcast, due bei direttori esiziali che vi consiglio, Caffè Napoli a calcio di cane podcast. Detto questo, ho voluto commentare questa partita, me la sono segnata in agenda perché sapevo, sapevo che sarebbero successe delle cose particolari. Mi sentivo una vittoria del Genoa questa sera e ho detto, ebbene fai Sandro, mettila in agenda, valla a commentare perché qui succedono cose che non esistono. Ed è successo perché chisto Napoliere, chisto Napoliere, chisto Napoliere mi fa piangere e creature, mi fa piangere e creature quei chisto Napoliere, chisto Napoliere. Perché ragazzi è un Napoliere veramente tonnato, è un Napoliere tonnato perché tu vedi sempre questa squadra che le qualità le mette anche in mostra, le mette, le mette anche in mostra le sue qualità, chisto Napoliere, però veramente errori dei singoli, mancanza di cazzimma, mancanza di cattiveria, sembra una squadra tonnata a se stessa, sembra una squadra veramente in balia di se stessa, di un ciclo che non è stato ravvivato perché questi giocatori qui alla fin fine sono giocatori protagonisti del ciclo Ancelotti, molti anche dello stesso ciclo Sarri, da Gattuso ci si aspettava, mi aspettavo una ravvivata, una fiammata, diciamo, una fiammata che potesse anche dare dei nuovi stimoli, che potesse ravvivare, che potesse far esprimere anche in modo diverso ma sempre efficace la qualità di una rosa che a mio avviso non manca, perché il Napoli, io continuo a dire che ha una rosa molto qualitativa, qui invece si vedono solo involuzioni, signori, si vedono involuzioni a livello di singoli, si vedono involuzioni a livello di gioco, va anche detto che il Napoli quest'oggi le sue occasioni le ha create ma ha pagato a caro prezzo delle prestazioni insufficienti, sbagliate e slegacciate di molti, di molti protagonisti e i risultati sono lì a testimoniarlo, concedetemelo, concedetemelo signori, concedetemelo, prestazioni e risultati troppo spesso mitigati, come ho detto in settimana, infatti vi invito a ripescare, ho fatto tre video sul Napoliere quest'estate, vi invito a vedere nei video precedenti che ho fatto su Youtube, ne ho fatto uno anche per abbonati intermedi se vi interessa sulla situazione Draghi, governo e via discorrendo, però ho fatto dei video sul Napoliere e mi tocca ribadire che a livello locale probabilmente no, questo lo concedo, ma Gattuso così anche per esempio Pirro, un po' tutta quella, come ha scritto giustamente un utente su Twitter, che ho ricondiviso tutta quella, quell'ensemble di campioni del mondo, di allenatori campioni del mondo, diciamocelo avvocato, diciamolo avvocato, godono di una stampa nazionale che spesso li difende, che spesso li esalta, che spesso li protegge, invece a Napoli a mio avviso Gattuso sta abbastanza deludendo come resa, non sta facendo rendere al suo livello una squadra che a mio avviso è veramente invece di qualità, è una squadra che può fare sicuramente molto di più di così, poi se volete parliamo anche di Ozyman, c'è questo giocatore qua, 80 milioni, come fa a costare questo giocatore qua 70-80 milioni, non so quanto è costato veramente una cosa inennarrabile, signori vi faccio notare che la pontatina di inizio anno, quando vi disse guardate che Simi farà più gol di Ozyman e mi fido più di Simi che di Ozyman, cioè siamo a febbraio e non è stata ancora smentita anzi, siamo a febbraio e non è stata ancora smentita anzi, cioè io non posso credere che un giocatore pagato 70 milioni sbucci quel gol davanti alla porta e si faccia sempre anticipare, qui c'è qualcosa che non va e vi dico anche di più, tante cose di questo Napoli parlando proprio a livello di giocatoristica, di rusteristica ve le dissi quest'estate quando facciamo il cattomercato, addirittura l'estate prima, penso a Zielinski quando io vi dissi è un buon giocatore a grande qualità, ma è un giocatore irrisolto, è un giocatore che non ha fatto il salto di qualità, sembra sempre lo debba fare, fa delle partite da fenomeno, poi in altre sparisce, se posso venderlo qualche estate fa si parlava di lui per cifre di 50-60 milioni, ma lo vendo, lo vendo se è il caso, pur essendo un ottimo giocatore, ma oggi per esempio tante partite così, tante partite in cui sparisce, tante partite in cui si dimostra un giocatore irrisolto, poi parliamo di Mario Rui, questa squadra ha assoluto bisogno di un esterno sinistro basso perché Mario Rui è improponibile, ma se non ce l'hai, Isai deve giocare, Isai, Isai deve giocare, deve essere titolare Isai, deve essere titolare Isai, poi non ho capito la formazione iniziale con tutti quei giocatori lasciati fuori, non ho capito i cambi, per esempio l'ingresso di Bakayoko in una partita che devi recuperare, così veramente una gestione che non mi è piaciuta, di contro c'è un Genoa, signori, che io qui dico chiedete scusa preziosi, hashtag chiedete scusa preziosi, perché è da due anni che il Genoa viene feccato da tutti, va bene, e invece ha una signora squadra il Genoa, per quello che è il Genoa, c'è una squadra che ogni anno ci dicono che deve lottare per la salvezza, per me è una signora squadra, a me il centrocampo del Genoa piace molto, la sparo? Perché devo spararla? La sparo, per me è un centrocampo quasi d'Europa League questo, Strotman, Zappacosta, Zajic, Zajic è fortissimo, Mika Zajic, un ottimo giocatore, mi piace veramente tanto Zajic, me lo porterei alla Fiorentina, una squadra che si permette di tenere Scamacca in panchina, perché davanti c'è a destra, c'è a Pander, c'è a piazza, squadra con Zappacosta, Perin, che è un signor portiere, un grandissimo portiere Perin, purtroppo limitato da infortuni, gestioni calciomercatistiche rivedibili, ma è una bella squadra il Genoa, dei bei giocatori, una squadra di qualità, anche Strotman un ottimo innesto, oggi Radovanovic sembrava Beckenbauer, questo anche per merito, non solo per merito, perché vi ripeto anche la base è buona, ed era, ve l'ho subito detto, la scelta di Maran ad essere sbagliata ad inizio stagione, ma onore anche a Ballardini, e qui ve la sparo di nuovo, sapete che io l'anno scorso, anche quest'anno, quando mi chiedono quali sono secondo te i tre migliori allenatori italiani in circolazione, io vi dico sempre Gasperini, Sarri e Conte, e poi quando mi si chiede il quarto ho sempre fatica a trovarlo, no? Perché tra buone stampe, tra allenatori che stanno simpatici al mainstream, ma non mi convincono, ecco, l'ho trovato, è Ballardini, ma non per scherzo, non è un fomento, non è una battuta veramente, Ballardini per me ad oggi è il quarto miglior allenatore italiano, dopo i primi tre che vi ho citato, senza ombra di dubbio, Ballardini è veramente una persona che fa rendere, ha trasformato il Genoa così, tac, per carità, merito, vi ripeto, anche alla squadra, che secondo me è stata sottovalutata, perché non era quella pattumiera che molti hanno presentato, anzi, anzi, però anche Ballardini è stato bravo ad intervenire in una situazione disastrata, e ha fatto fare quel salto di qualità che per esempio Gattuso a Napoli in questo tempo qua non è riuscito a fare. Io ho la mia pontatina per il Napoli dell'anno prossimo, vi ripeto, vorrei un Napoli in stile pizza-ristorante, un Napoli calmierato, un Napoli gotico, voglio Luca Gotti, per me Luca Gotti, allievo di Sarri, sulla panchina del Napoli, ci starebbe bene, ci starebbe bene il buon Luca Gotti, Luca Gotti, Luca Gotti sulla panchina del Napoli, anche seppure capisco i nostalgici di Sarri, perché tutto sommato sarei curioso di vedere cosa saprebbe fare Sarri con questa squadra qui, anche se alcuni giocatori, penso a Bakayoko, magari non sono propriamente adatti al suo gioco, però alcuni sì, quindi sarei curioso di vedere cosa potrebbe fare Sarri tornando al Napoli, ma in ogni caso il mio nome per la rinascita del Napoliere, resta Luca Gotti. Io adesso non so se Gattuso verrà esonerato, non so che tipo di decisioni vengano prese, però voglio dire, penso sia anche ora di superare queste simpatie a prescindere, o anche queste antipatie a prescindere che magari ci sono. Io credo che estraneandosi dalle antipatie per Gattuso o dalle tante simpatie nazionali per Gattuso, io penso che ci troviamo di fronte ad una squadra che sta sottorrendendo rispetto alle sue possibilità, non solo per un discorso di risultati, ma anche per un livello di sfruttamento, diciamo della rosa adeguato, di gioco, di trame, di qualità. Non c'è un giocatore di questo Napoli qui che a mio avviso abbia aumentato considerevolmente il suo valore con questo allenatore, a parte Lozano che si è ripreso ed è tornato magari qualche volta, spesso oggi l'unico che salvo, assieme forse a Politano, forse solo Lozano è tornato ai livelli pre-Ancelotti, per il resto tanti giocatori svalutati, tanti giocatori in preda ad errori, tanti giocatori che non si sono ritrovati. Caro saluto, iscrivetevi tutti e condividete.